Il marchio Wurt Modif si contraddistingue per la sicurezza, la comodità e il design dei suoi prodotti. Il gruppo Wurt è leader mondiale nella distribuzione di prodotti per il fissaggio ed il montaggio. Modif è un'impresa del gruppo Wurt specializzata nella vendita di abbigliamento da lavoro e di scarpe antinfortunistiche. Il nostro obiettivo è offrire soluzioni su misura e un servizio completo a tutti i nostri clienti. Per soddisfare le più svariate richieste, offriamo un servizio di merce in pronta consegna, un servizio di corporate wear e una vasta rete di vendita diversificata. Abbiamo 8100 articoli, sempre disponibili a magazzino, con consegna entro 48 ore. Il servizio di personalizzazione Modif Plus vi permette di personalizzare l'abbigliamento da lavoro con ricamo, serigrafia o stampa digitale. Il servizio corporate wear prevede la creazione di uniformi aziendali ad hoc che corrispondono alla vostra identità aziendale e un sistema di consegne personalizzato per centri, unità e impiegati. I nostri pilastri, flessibilità, disponibilità e dinamicità. WorldModif, passione per il servizio.